Ciao amiche e ciao amici, vediamo in questo video una strategia di seduzione per far innamorare e per coinvolgere chi desideri. Allora, una strategia di seduzione per far innamorare chi desideri deve basarsi su tre pilastri fondamentali. Il primo pilastro fondamentale è se stessi, cioè avere la capacità di gestire bene le proprie emozioni, perché altrimenti è come imparare, che ne so, delle tecniche della balistica per fare il tiro con l'arco, ma poi avere la mano che trema. Non riusciremo mai a fare centro, quindi per imparare le strategie di seduzione, più che per imparare, per utilizzare le strategie di seduzione dobbiamo avere la capacità di avere coinvolto noi stessi, quindi la prima persona da sedurre siamo noi stessi. Per sedurre noi stessi dobbiamo avere uno stile di vita che ci appaghi emotivamente, altrimenti la nostra parte emotiva andrà a cercarsi delle emozioni spazzatura che tenderanno a farci fallire là dove logicamente vorremmo riuscire. È un po' come il, che ne so, il conferenziere che deve fare una conferenza che si è studiato, sa benissimo, sa perfettamente, ma poi quando si trova davanti al pubblico, alla platea, balbetta, rossisce, non gli vengono le parole e si impappina. È perché la parte emotiva ti sabota procurandosi le emozioni in questo modo, non essendo tu stati in grado di dargli le emozioni attraverso lo stile di vita. Per cui prima di agire su una strategia di seduzione, di mettere in atto una strategia di seduzione che avrai imparato, devi somministrarti un po' di emozioni, emozioni che possono essere di diversa natura. Fondamentalmente la cosa fondamentale, anziché avere l'imbarazzo della scelta, fare la scelta dell'imbarazzo. Fare qualunque cosa che ti generi un po' imbarazzo, che ti generi emotività. Ovviamente devono essere delle cose che non ti danneggiano, sicuramente. Però fare qualcosa che ti possa pagare emotivamente. Questo prima di mettere in atto le strategie di comunicazione con la persona che ti interessa. Fatto questo, quindi arrivi, diciamo, bello carico, quindi sei preparato, mantieni il distacco del risultato, perché se sei carico emotivamente avrai il distacco del risultato, che significa che non sarai, diciamo, bisognoso di quel risultato, ma e quindi agirai nel modo migliore. E quindi potrai essere un po' irreverente verso la persona che ti interessa, perché per la strategia migliore di seduzione per coinvolgere è quella di andare a capire che hai di fronte, interrompere i suoi schemi. Per interrompere i suoi schemi, cioè fare delle cose inusuali, comportarti in modo strano. Ad esempio, dimostrarti da un certo punto di vista, come dire, disponibile verso questa persona, dimostrarti affascinato da questa persona, ma nello stesso tempo magari non cercarla, essere un po' freddo nei suoi confronti, quindi dare dei messaggi, diciamo, ambigui, perché il dubbio è ciò che seduce veramente. Inoltre devi tenere presente una cosa fondamentale che è molto importante, che devi imparare a giostrare la tua comunicazione in modo tale da apparire sia come figura istituzionale, ma sia come figura trasgressiva. Ed è molto importante che queste due figure vadano avanti in modo parallelo, cioè non devi essere quello trasgressivo che si presenta, diciamo, alla Rocco Sifreddi, camicia aperta, con la nazza, oppure, diciamo, il bicipite tatuato, o che fa altre cose, oppure la donna vestita da zoccola, diciamo, minigonnata, a linguine, insomma, un po' puta all'eccesso, ma devi avere una trasgressione molto più raffinata, cioè devi unire, come dire, devi essere il lupo cattivo ma travestito da nonna, non devi apparire come lupo cattivo, devi apparire come la suorina, però, diciamo, lasciare intravedere magari, adesso parlo di una donna, lasciare intravedere magari attraverso un accallamento di gambe un intimo provocante, ma nascosto, oppure essere un maschio che, diciamo, magari non si esibisce tanto, ma poi entra dentro nella comunicazione in modo dirompente, in modo quasi, diciamo, autoritario, e quando si rivolge a te lo fa con la voce calma, tranquilla, ma di fatto ti sta dando degli ordini, quindi dimostra di avere un valore superiore, dimostra di essere un maschio alfa, e quindi il maschio alfa è per Antonio Masa quello trasgressivo, quindi questa capacità di giocare sia al ruolo istituzionale, quindi dare affidabilità in modo tale da rendere la parte logica dell'altra persona predisposta ad accettare un dialogo con te e poi far venire fuori gradualmente la parte trasgressiva in modo tale da coinvolgere emotivamente, interrompere gli schemi, è la via regia di accesso all'innamoramento, è la strategia migliore per far innamorare le persone che devono sentirsi bisognose delle emozioni che tu gli fai vivere, ma dal contempo la parte logica non deve essere eccessivamente impaurita, altrimenti metti il bastone tra le ruote, quindi questa è la vera chiave di accesso alla seduzione, ciò che ti renderà un seduttore e una seduttrice, devi esercitarti in questo se vuoi raggiungere l'obiettivo, e non devi aver paura di perdere la partita, questa è la cosa fondamentale, quindi devi imparare ad amare te stesso, puoi aiutarti in tutto questo ad esempio con delle visualizzazioni, quantiche che poi spiegherò in un altro video, dove si tratta di vedere il risultato già di quello che tu ottieni, il risultato di te stesso, non vederlo come qualcosa che potrà accaderti in futuro, ma vederlo come qualcosa che è già nel presente, perché in questo modo darei un comando molto forte alla tua mente, questo aiuta, e comunque lo spiegherò poi in un video dedicato, moltissimo per avere questa capacità di distacco dalle risultate, questa capacità di gestire le proprie emozioni, in modo tale che la nostra parte emotiva possa innamorarsi, coinvolgersi su emozioni positive e non su emozioni spazzature, e nel contempo avremo la serenità, la tranquillità, l'agire coerente, che ci permettono di farci identificare come persone veramente significative dalla parte emotiva dell'altra persona, senza che la parte logica metti il bastone tra le ruote. Questa è veramente la strategia vincente, se vuoi, diciamo, eccellere nell'arte della seduzione, e far innamorare di te le persone che desideri, ovviamente. Bene, per questo video è tutto, se ti è piaciuto puoi condividerlo con i tuoi amici, cliccando sopra, sotto dove c'è scritto condividi, condividi, inoltre se ti iscrivi al canale avrai la possibilità di fare una domanda nei commenti, una domanda anche specifica, e riceverai un video di risposta. Questo servizio ovviamente è completamente gratuito, ma vale soltanto per gli iscritti al canale. Bene, per questo video è tutto, ti saluto, ciao, al prossimo.